Beyonce, una delle più importanti icone pop mondiali, sta per tornare sulle scene con un nuovo album dal titolo 4, registrato in poco più di un anno tra la primavera del 2010 e quella del 2011. Il progetto sarà disponibile in streaming gratuito e in esclusiva per l'Italia dal 22 al 27 giugno su www.mtv.it. Sul sito di MTV dunque la possibilità di ascoltare in anteprima le tracce del disco che verrà pubblicato da Sony Music il 28 giugno. Il titolo non è stato scelto unicamente per rappresentare il quarto album da solista di Beyonce ma è il giorno della sua nascita ma anche come messaggio personale dell'artista ai fan. Per oltre un anno infatti attraverso le pagine web dei social network i fan di tutto il mondo hanno chiesto all'artista di intitolare l'album 4, numero fortunato di Beyonce. Intanto la cantante di colore ha dato spettacolo nel festival pop di Glanstonbury. Grazie a tutti.